Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono L. Elvira e questo è un video tag in collaborazione con Chiara ASMR. Allora, il video di Chiara lo trovate sul mio canale e l'SMR che trovate nelle informazioni, nell'info box, trovate anche il link del mio canale e del video di Chiara. Ok. La collaborazione in questione, in cosa consiste? Nel rispondere a delle domande create da me e da Chiara. Allora, le domande riguardano l'SMR del mese. Veniamo al dunque, iniziamo. Prima domanda, ASMR artist preferito del mese, straniero e non. Se guardo di qua perché c'ho il telefono. Straniero e non. ASMR artist preferito del mese, straniero. Ci sono due, ci sono entrambi coreani. Quindi, SOI ASMR e TONGUA ASMR, che sono un ragazzo e una ragazza. Italiano invece, ASMR artist preferito. SWEET ASMR. Poi, genere di video preferito del mese, il mio genere di video preferito del mese e non è Living Sounds. È da sempre il mio genere preferito, quindi è solo del mese, insomma. Lingua preferita del mese per l'SMR. Anche in questo caso non è solo del mese, ma ho proprio una preferenza assoluta. Ne sono tre. Vali il coreano, il giapponese e lo spagnolo. Sono le tre che ascolto principalmente video più stressanti da girare in questo mese. Ultimamente tutti i video sono stressanti. Perché? Ci sono tanti rumuister. Tuttavia, il più stressante è stato uno in particolare che trovate nel mio canale. Ed è un video tapping. Tapping su questo telefono. E praticamente è un video metà inglese, metà italiano, quindi... già lo trovate subito. E in quel video ci fu la rivolta dei cani, in poche parole. Trovate anche i videoproopers di quel video. Se volete farvi due risate, andatelo a vedere. Andiamo avanti. Microfono preferito? Vabbè, a me è sempre il 3D. Però mi piace anche, ovviamente, questo qui, lo zoom H1 e lo zoom H6. Credo che abbiano... Siano molto validi. Commento più bello del mese. Fortunatamente, ricevo molti commenti belli, quindi è un po' difficile scegliere il commento preferito del mese. Di solito, tutti quelli dove mi mandano baci o bracci virtuali o mi augurano cose belle, per me sono fantastici. Però c'è un commento, ora io ci penso, che ricevi il primato per la fantasia, non lo so, e praticamente non era italiano. E questo utente mi aveva scritto che, secondo il titolo di un mio video, credeva che io fossi inglese. Poi ha visto il video, e io parlavo spagnolo in quel video. E l'ha detto, ah no, allora sei spagnolo. Poi ha ascoltato quello che dicevo nel video. E dicevo che stavo apprendendo lo spagnolo. L'ha detto, ah allora non sei spagnolo, ma sei inglese. Poi dopo un po', mi riscrive, e mi dice, ah non sono appena uscita dal tuo canale, e ho visto che sei italiana. E quindi dicevo, oh bellissimo. Cosa? In pochi minuti ha pensato che fossi inglese, spagnola, italiana. Top. Mi ha fatto parecchio ridere questo commento, devo dire la verità. Andiamo avanti. Video preferito del mese. Straniero. Video preferito del mese. E' uno di i suoi, dove, suoi ASMR, dove mangio i marshmallow. Perché come ho detto, i miei preferiti sono i think sounds, quindi ovviamente deve essere un think. E quell'idea secondo me è geniale. Però è anche un tebolo per un altro video. Per uno di i mini ASMR, cioè parlo sempre dei ASMR artists coreani ormai. Sono quelli che vi seguo. E' un video dove mangio le crocchezze di pollo, in compagnia con un'altra ASMR artist, Julie. E' veramente bellissimo quel video, cioè tipo li metto in continuazione, perché troppo. Video preferito del mese, italiano. E' un video di Orange Wave. E' un video parecchio vecchio, devo dire. Dove cantano lina nanna. E si petti nei capelli. E poi il mio video preferito è ridotto da sempre. Oltre a rilassarmi, mi metto in senso di pace, non indifferente. Stupendo. Stupendo veramente. Anche quello metto in continuazione. Vabbè. Video preferito nostro, ossia io ho il mio video preferito di Chiara, ASMR. E' uno show-and-tell di un po' di tempo fa, dove mostra degli oggetti che le sono arrivati da un sito, dove ha un pigiamino azzurro addosso. E' quella cosa che fa sentire parecchio a casa, non lo so. Mette di buon umore. E comunque quel video secondo me è geniale. E sicuramente il 90% delle visualizzazioni le ho dati io. Cioè, le ho dati io. Perché anche quel video lo ascolto sempre, 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 sempre. Perché io credo che Chiara abbia un vispelling veramente geniale. Non ce la posso fare. Infatti quando carica dei video vispelling io ti posso essere un po' contenta. Cioè, non dico, vale, non ci posso fare niente. E poi la sua voce abbinata ai crinkle sounds e al tapping. Top del top. Andiamo avanti. Video che ci è piaciuto di più girare. Tutto sommato, io mi diverto a registrare video. Anche se devo fare, purtroppo, tanti tagli il più delle volte. Perché abito in una zona, abito in una zona parecchio accesa. E, però, uno dei video che mi piaciuto di più girare è stato l'unboxing del mio nuovo microfono. Perché ero particolarmente contenta in quel video, ovviamente. E, ma anche tutti i video in spagnolo, tutti i video in lingua. Per il semplice fatto che mi metto a fronte ai miei limiti e vedo un po' dove arrivo, insomma. È brutto quando a volte tipo, non dopo le parole, trovi termini. Quindi devo cambiare discorso, devo fare tagli perché, come lo sto dicendo, sta sempre così. Ma anche i video chiacchiere, quindi i video più leggeri. No, in realtà tutti i video in questo mondo. I video chiacchiere anche, per l'appunto, perché sono video random, se non lo sapete. E ho una categoria di video nel mio canale. Una playlist che per l'appunto si chiama chiacchiere. E dove parlo... Dove parlo di cose un po' random, senza senso, tipo. Però sono molto leggeri e mi piace farli perché mi rilasso particolarmente in quei video. E manca i roleplay. Cioè, al fine di tutti i video, di genere, i roleplay mi diverto un sacco. Perché mi piace visitare. Quindi, automaticamente, mi piace mettermi in i ruoli di un'altra persona, tipo un dottore. Una mega-partist, una parrucchiera. Cioè, le parrucchiere, secondo me, sono i più generanti. Bene. Nel caso della mia parrucchina... Scrausa, bravo. Ok. Cioè, che alla fine non è una parrucca quella che ho. Sono delle extension. Nuova scoperta del mese straniera. Nuova scoperta del mese straniera. Mi sembra sia di questo mese o anche del mese scorso. Non ricordo, sorry. Ed è Mol ASMR. È spagnolo. E ovviamente seguo, come ho detto, le tre lingue che seguo io. Quali sono principalmente? Mol è spagnolo. Che mi piace un casino. La sua voce mi piace un casino. È veramente bella. Così. E ho scoperto anche, tipo... Kaia. Sicuramente starò sbagliando nome, ma non mi ricordo. Kaia, se mi sbaglio, sì. Va bene. ASMR, invece, coreano. Nuova scoperta del mese italiana. Oddio. Proprio prima stavo ascoltando dei nuovi, ma non mi ricordo i nomi, perché oggi invece non mi segno le cose, capito? Tuttavia uno, me lo ricordo, ed è Totoro ASMR. Me lo ricordo in particolar modo per via del nick del canale. Tutto ecco qui. Ce la farò. Ecco. Totoro. Quindi si è Totoro. E... Devo avanti. L'ultimo roleplay preferito. Allora, io non sono un amante di roleplay. Non mi piace. Non mi piace molto vederli. Mi piace di più registrarli. Farli mi diverte. Ma vederli no. Tuttavia, c'è un roleplay che ho adorato in questo mese. Ed è... O di... Tuttavia, ASMR, ed è il boyfriend roleplay. Secondo me è... È benissimo quel video. Non si vede... Non è un visual trigger, si sente solamente l'audio. Ma è perfetto. Cioè, è proprio reale, realistico. Ovviamente non capisco un cavolo del coreano. Però... Devo dire che fa il suo effetto. Forse è proprio perché non capisco cosa mi dice, quindi... Molto bene. E... Questo... Solo questo, credo sia il roleplay preferito del mese. Yes. Ah, mi è piaciuto anche un roleplay di figli. ASMR. Della psicologa. Mi è piaciuto per l'originalità quel video. Pollice in su. E... E niente, questo è tutto. Spero che questo video sia stato di vostro credimento. Che... Non siete stati delusi a trovare via un posto di Chiara nel canale. Però se... Per esempio... Ma chi è? Ma chi è? Come ho detto... Al principio, date un'occhiata all'info box. E... Sarei contenta di trovarvi nel mio canale. Lasciate un pollice in su e dei commenti se vi è piaciuto questo video. Un bacino e... Bye bye!